Santa Caterina da Siena Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse, Ti rendo l'ode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapiente ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Caterina da Siena è stata una donna, in un periodo storico certamente non a favore delle donne, senza istruzione, senza saper leggere e scrivere, eppure è dottore della Chiesa. Il perché ce lo spiega il Vangelo di oggi. Ti rendo lode, padre, signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Non dobbiamo confondere i piccoli con gli ingenui. La piccolezza del Vangelo non è una forma di romanticismo, ma l'atteggiamento attraverso cui Dio effettivamente può parlarci. I piccoli, secondo il Vangelo, sono talmente ricettivi e gratuiti. Non vogliono possedere Dio, né manovrarlo. Al contrario, si abbandonano fiduciosamente a ciò che egli fa nella loro vita, e così il Signore riesce a parlare con loro con una chiarezza che gli altri non riescono mai a raggiungere. In questo senso, la rivelazione di Dio in loro ha più sapore di un'esperienza che di una semplice teologia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Tutto ciò che il Signore può dirci, noi riusciamo a recepirlo solo a patto di salire in braccio a Lui, o di portare il peso della vita insieme con Lui. È dal legame che si crea tra noi e Lui che passa anche la rivelazione più significativa per la vita di ognuno. In alcuni casi, come in quello di Caterina da Siena, il legame è talmente forte che il Signore non solo si rivela alla sua anima, ma attraverso di lei parla a tutta la Chiesa e a tutto il mondo. Questo ci ricorda che la santità, a volte, non è solo un favore a noi stessi, ma anche un favore a tutti gli altri. Caterina ci ha mostrato una santità che ha segnato una stagione nuova per la Chiesa e per i secoli a venire. Eppure agli occhi del mondo era solo una donna, incolta, povera e senza nessun mezzo.